Mary per me è una grande, è un grandissimo esempio perché ha saputo prendere quelli che erano i suoi talenti e le sue passioni e trasmetterle a tutti gli altri e aiutare le persone veramente a fare chiarezza in un ambito così controverso e impegnativo come possono essere le relazioni di coppia che sono fondamentali per tutti noi e se vissute bene ci possono veramente dare una felicità pazzesca. Seguendo Mary da quando la seguo ho iniziato ad essere molto più consapevole, molto più attenta rispetto a come mi comporto con il mio ragazzo come mi comporto anche con le altre persone in generale e soprattutto molto più attenta anche a quelle che sono le mie responsabilità senza guardare solamente quello che accade all'esterno dove la risposta c'è molto di rado mentre è molto più facile trovare la risposta dentro di noi una volta che sappiamo come fare. Questo evento è sicuramente un'occasione importantissima anche per farsi un check. Io mi formo da parecchi anni e ho modo qui proprio di dare valore a quello che già faccio di giusto tra virgolette cioè che mi porta risultati e che magari tante volte dopo è scontato e di quello che di bello c'è nella mia coppia e anche però riuscire a capire che cosa veramente posso migliorare ancora e quindi questo è importantissimo e non ha proprio prezzo.